Buongiorno, trattiamo in questo breve video un rapido ripasso di quelli che sono i concetti che già conoscete sulle collection e in particolare sulle liste in preparazione essenzialmente agli esercizi che faremo che ci permetteranno di approfondire un pochino meglio dal punto di vista pratico già le cose che in qualche modo già conoscete forse un pochino più superficialmente diciamo che il focus di questo ripasso, ripreso dei concetti mira in due direzioni da un lato è cominciare a pensare ai problemi di complessità e di efficienza cioè non solamente saper fare un'operazione ma saper capire anche quanto è efficiente o meno efficiente quindi quanto è rapida oppure più lenta una certa operazione piuttosto che un'altra il secondo obiettivo è quello di come sempre cominciare a prepararci verso programmi di maggiore complessità e quindi un pochino andare a esporre quelle che sono le trappole di programmazione che possono saltare fuori dall'uso delle strutture dati strutture dati che in Java sono particolarmente ricche in quanto la libreria standard di Java già contiene una serie di classi e di interfacce che prende il nome di Java Collection Framework che ci permettono già di appunto riuscire a avere predefinite tutta una serie di strutture date che in altri linguaggi di programmazione diciamo così un pochino più antichi o un pochino più di basso livello come il C invece andrebbero sviluppate a mano partendo dall'inizio quando parliamo di collections all'interno della libreria Java la definizione di collection è molto semplice c'è un oggetto ovviamente in Java è tutto un oggetto che rappresenta e che contiene o che gestisce un gruppo di oggetti un gruppo di altri oggetti oltre a se stesso nella libreria Java c'è una serie di classi e di interfacce come dicevo che prendono il nome di collection framework in quanto raccolgono praticamente tutte le classi e tutte le istruzioni che sono operazioni che sono possibili su questo tipo di collection la definizione di collection come abbiamo visto è molto generica molto generica per cui ci saranno diversi tipi di collezioni di collection, di raccolta di elementi che avranno caratteristiche diverse allora il framework della collection di fatto ci dà gli stessi metodi per operare per tutti gli oggetti e ci dà la possibilità di imparare una volta per tutte come si esistono questi oggetti indipendentemente poi dall'oggetto specifico questo è il vantaggio per cui avremo molte classi che si comportano tutte nello stesso modo anche se poi ciascuna ha le proprie specificità la collection framework è basata su due livelli praticamente c'è un primo livello che era riassunto da questa figura qua sottostante che in qualche modo rappresenta l'insieme di interfacce sulle quali sono costruite tutti i metodi e tutte le classi delle collection quindi questi rettangoli qua in questa figura rappresentano interfacce rappresentano non ancora classi ma interfacce che definiscono qual è il comportamento di vari tipi di collezioni quindi vedete che c'è una classe collection all'inizio in alto e poi delle sotto interfacce queste ancora sono tutte interfacce non sono ancora classi che rappresentano tipi diversi di collection quindi alcuni tipi di collection permettono che esistano elementi duplicati al suo interno altri invece no alcuni tipi di collection permettono di mantenere l'ordine di inserimento degli elementi altri invece sono disordinate nel senso che non si può imporre un determinato ordine e così via quindi a seconda del tipo tutte le collection servono per raccogliere elementi ma lo fanno in modo diverso noi partiremo prima a studiare le liste e poi nel seguito del corso andremo anche a studiare gli altri tipi di collection che incontreremo la classe collection l'interfaccia collection scusate è un'interfaccia astratta nel senso che non è mai implementata direttamente ma esistono delle implementazioni di set implementazione di list implementazione di deck e così via implementazione dell'interfaccia di secondo livello poi ci sarà un discorso che faremo più avanti ma lo accelereremo già oggi su un'altra coppia di classi di interfacce di cui ci saranno ovviamente le classi di implementazione che prende il nome di mappe che non sono, diciamo così, formalmente delle collection ma in realtà fanno parte della famiglia allargata se vogliamo dire quindi abbiamo detto che ogni collection tutte rappresentano gruppi di elementi e l'interfaccia collection raccoglie tutte le operazioni che sono implementate da qualunque collection sottostante quindi ci saranno alcune operazioni specifiche ad esempio per le liste altre operazioni specifiche per gli insiemi ma ci sono le operazioni che tutte le collections insiemi, liste e così via devono implementare queste sono invece definite dentro l'interfaccia collection se vogliamo creare un metodo che non ha bisogno di una conoscenza dettagliata di quale tipo di collection si tratta possiamo anche passare il tipo collection come metodo di una funzione e quindi questo metodo potrà funzionare sia che le venga passata una lista sia che le venga passata una cosa sia che le venga passate un insieme l'altro aspetto da considerare è che è possibile sempre iterare sulle collection quindi tecnicamente l'interfaccia collection estende quindi una sorta interfaccia rispetto all'interfaccia più generica che si chiama iterabile questo significa che da qualunque collection è sempre possibile generare, estrarre un iteratore quindi è un oggetto che sia in grado di iterare tra i vari elementi della collection uno per volta attraversare, diciamo così in gergo usiamo questo termine attraversare la collection cioè toccare gli elementi uno per uno restituire gli elementi uno per uno la classe iterator, l'interfaccia iteratore che è implementata in realtà è molto semplice perché è un oggetto iterabile se è data un oggetto posso sempre trovare se c'è un elemento successivo e farmi restituire quale sia questo elemento successivo ma sui dettagli degli iteratori torneremo più avanti quando andremo a iterare le strutture un pochino più complesse l'unica cosa che ci interessa ricordare bene in questo momento è che qualunque collection può sempre essere iterata quindi è sempre possibile navigare uno per uno i suoi elementi poi magari vengono navigati attraversati in ordine oppure fuori ordine ma questo dipende dalla specificità della collection le sotto interfacce principali di collection sono queste quattro che abbiamo visto insieme, set, lista che sono quelle in realtà che vedremo per prime sono devo dire le più utilizzate essenzialmente che non sono altro che una sequenza un array o una sequenza di valori l'insieme è come dice il nome anche dal punto di vista matematico un insieme di elementi è un insieme che contiene degli elementi che per loro natura insiemisticamente non possono essere ripetuti quindi possono esserci non è permesso avere dei duplicati all'interno di un insieme mentre invece in un elenco, in una lista, in una sequenza sì e un insieme non è ordinato non ha un ordine proprio l'ordine degli elementi non esiste a meno di un insieme un po' strano che è il sorted set che matematicamente non è proprio un insieme perché matematicamente negli insiemi non esiste un ordine ma dal punto di vista informatico può tornare comodo ci sono poi altre due sottoclassi che in realtà vanno sotto una grossa famiglia delle code le code le vedremo molto bene nella parte finale del corso quando vedremo le simulazioni perché le code sono le strutture dati nelle quali è possibile aggiungere gli elementi e poi poterli estrarre in ordine di inserimento oppure in ordine di priorità rispetto a quando sono stati inseriti e questo ci serve essenzialmente per riuscire a gestire delle operazioni che teniamo in sospeso le infiliamo in code e poi le estrariamo dalla coda quando ci servono come dicevo nel corso vedremo subito le liste poi gli insiemi e le mappe che sono strettamente collegate e verso la fine vedremo le code quindi queste sono l'insieme completo delle interfacce della famiglia collection queste sono le interfacce ovviamente ci interesseranno le classi di implementazione allora facciamo attenzione a dei piccoli dettagli in questa figura le frecce bianche come questa ad esempio rappresentano come questa come questa rappresentano un'operazione di estensione quindi da un'interfaccia c'è una sottointerfaccia che la estende e fin qui va bene queste sono tutte interfacce quando invece abbiamo una freccia piena quindi con la testa azzurra in questo disegno stiamo parlando di una classe che implementa un'interfaccia quindi le classi effettive con cui noi possiamo creare delle strutture dati sono quelle più in basso io posso creare una linked list io posso creare un array list che conosciamo bene posso creare un asset posso creare un tree set come oggetto java non potrò creare direttamente un set oppure una list list è un'interfaccia linked list è una classe e rispetto a questa classe possiamo creare è una classe di tipo collection ovviamente in particolare di tipo lista e quindi noi possiamo poi creare oggetti di questo tipo ma questi oggetti avranno tutte le proprietà che sono definite su lista e tutte le proprietà che sono definite su collection e quali sono le proprietà che sono definite su collection beh è abbastanza semplice nel senso che l'intera interfaccia collection quella di più alto livello è essenzialmente riportata in questa slide questi sono tutti i metodi che qualunque collection deve implementare e poi ci sono dei commenti optional che dicono che in realtà guarda ci sono dei casi particolari in cui alcune collection non le implementano cosa possiamo notare di questa interfaccia? una cosa sicuramente che si nota subito è che ogni collection sa e mi può dire quanti elementi contiene le proprietà size, il metodo size esiste su tutti e nel caso particolare in cui non contenga nessun elemento i tempi è un metodo booleano che mi dirà se è vuoto oppure no ma l'altra cosa che salta subito all'occhio è che tutte le classi della collection framework sono sempre parametrizzate da un parametro generico quindi in questo caso l'interfaccia collection E di un tipo generico E in Java un tipo generico serve per creare per parametrizzare una classe, un'interfaccia rispetto a un'altra classe questo vuol dire che noi possiamo creare una collection di string e quindi scriveremo collection parentesi string qua al posto di E possiamo creare una collection di interi quindi scriveremo collection integer oppure potremmo creare una collection di qualunque tipo di oggetto definito da noi questo è fondamentale perché la collection in qualche modo si trasforma nella collection di oggetti del tipo che voglio io e quindi riesce a mantenere il controllo forte sui tipi che il linguaggio Java ci ha abituato quindi prima avevamo detto una collection è un insieme di oggetti adesso dovremmo dire una collection è un insieme di oggetti dello stesso tipo dello stesso tipo vuol dire di una certa classe o sotto classi della stessa classe che è stata dichiarata e quindi nel momento in cui dichiariamo una nuova collection siamo tenuti a definire qual è il tipo degli oggetti che questa collection dovrà contenere e poi ovviamente ci sono le altre operazioni di base cioè chiedo alla collection senti per caso tu contieni un certo oggetto oppure chiedo alla collection aggiungi un nuovo elemento e vediamo che qui l'elemento è di tipo E questa E ovviamente è uguale a questa E cioè se io ho una collection di string il metodo adder riceverà un parametro di tipo string una collection di string è una collection in cui posso aggiungere string oppure posso eliminare elementi o un metodo remove che serve per cancellare un elemento il metodo adder è di gran lunga diciamo così il più importante in CMSize per poter lavorare con tutta la collection la collection la creo ma poi se non ci so mettere gli elementi dentro non me ne faccio nulla questi sono i metodi di base che lavorano un elemento per volta aggiungo un elemento, cancello un elemento poi vedremo in questo caso cancello l'elemento che è passato come oggetto in altri tipi di collection, quelle ordinate potremo anche passare la posizione dell'oggetto stesso ma questi sono dettagli in cui entreremo operazioni di base lavorano su un elemento per volta poi ci sono le operazioni a blocchi cioè operazioni che lavorano su un gruppo di elementi allo stesso tempo qui non facciamoci confondere troppo da queste strane sintassi che sono indicate come generics diciamo così che chi crea libreria ovviamente deve fare molta attenzione questo punto interrogativo vuol dire una collection di qualunque tipo mentre quest'altro vuol dire una collection di qualunque tipo purché sia una sottoclasse o un'implementazione della superclasse o dell'interfaccia non facciamoci confondere da questo concentriamoci però su questi metodi sono quattro metodi contains all, add all, remove all e retain all che lavorano su blocchi di elementi e in particolare queste tre hanno dei nomi strani ma sono le operazioni insiemistiche cioè add all prende una collection e aggiunge a questa collection tutti gli elementi di una seconda collection c quindi questa qua altra non è se non l'operazione di unione tra due collection retain all è un metodo che data una collection e una seconda collection c mantiene, retain, conserva nella prima collection tutti gli elementi che sono anche nella seconda quindi è come dire cancella tutti quelli che non sono nella seconda retain dice mantengo solo questi sottointeso invece cancella tutti gli altri quindi vuol dire che mantengo solo gli elementi della prima collection che sono anche nella seconda e quindi di fatto è un'operazione di intersezione e quindi le operazioni che possiamo fare quando abbiamo delle collection ogni qualvolta possibile cerchiamo di pensare a livello più alto cerchiamo di pensare a un livello più in su e di dire ma io anziché andare a cercare dentro una collection se ci sono tutti gli elementi di un'altra vabbè ne farò l'intersezione vado a vedere se l'intersezione è vuota o se l'intersezione è uguale alla prima e cose di questo genere e quindi dobbiamo sforzarci di riuscire a ragionare non tanto sul singolo dato con i cicli for lavorando perché altrimenti impazziamo e creiamo dei programmi che non sono diciamo sufficientemente efficienti noi stessi non saremmo sufficientemente efficienti nello scriverli e dovremmo riuscire a usare i metodi di più alto livello una spinta che vi darò sempre durante il corso è questa ma attenzione guarda che questo se lo pensi in modo diverso è più semplice e vuoi usare un metodo di più alto livello quindi dobbiamo conoscerli imparare a usarli remove all è invece il metodo che cancella fa la sottrazione tra una collection e l'altra di fatto quindi remove all cancella dalla prima collection tutti gli elementi che sono presenti nella seconda quindi sottrae dalla prima la seconda collection contains all invece è un metodo che verifica se una collection è sotto insieme di un'altra cioè la collection padre è sotto insieme cioè contiene tutti gli elementi che sono anche nella nella collection c se li contiene tutti allora vuol dire che è un sotto insieme di c altrimenti vorrà dire che non contiene tutti gli elementi di c e quindi non è una sua collection quindi le operazioni insiemistiche hanno dei nomi strani perché ci saremmo aspettati che si chiamasse subset of o union intersection and difference ad esempio e invece le hanno chiamate così pazienza noi siamo in grado di riconoscerli da solo e poi c'è questo metodo carino il metodo clear che fa sì che la collection diventi vuota la trasforma l'insieme vuoto cancella tutti gli elementi che contiene queste operazioni ad alto livello su blocchi di elementi sono definite in collection e quindi sono disponibili in tutte le collection che avremo nel programma Java esiste poi un ultimo insieme di operazioni che però voglio ignorare non voglio vedere che servono per convertire una collection da e verso un tipo di dati array l'array primitivo di Java allora io ritengo che l'array primitivo di Java sia inutile e a volte dannoso nella programmazione quindi cerchiamo di non usare mai l'array abbiamo le collection appositamente per poter lavorare più ad alto livello un array è un costrutto Java ancora un po' troppo di basso livello e si mescola male tutto sommato con il comportamento degli altri oggetti quindi questa parte qua noi non la guardiamo dicevo che vi avrei accennato qualcosa sulle mappe che non sono tecnicamente delle collection ma diciamo fanno parte della famiglia una mappa è un oggetto che come dice il nome rimappa delle chiavi su dei valori quindi potrei avere una mappa che mi dice che l'elemento A corrisponde a non so Antonio un nome se invece io ho C corrisponde a Carlo allora potrei avere una mappa quindi questo è il simbolo che usiamo per una mappa io ho un elemento che chiamo chiave a cui è associato un elemento che chiamo valore la chiave chi e il valore value questo è il contenuto di una mappa la struttura di una mappa che di fatto memorizza delle relazioni tra oggetti di tipo chiave e oggetti di tipo valore chiaramente con i generics sarà possibile definire qual è il tipo di dato in questo caso un singolo carattere che uso come chiave e qual è il tipo di dato in questo caso una stringa che uso come valore è una cosa un po' strana perché non è una collection nel senso che non contiene solo oggetti ma contiene coppie di oggetti collegate in questo modo ci entreremo chiaramente in dettaglio e la interfaccia mappa può essere implementata in vari modi a basso livello che hanno ovviamente caratteristiche diverse come vediamo una mappa non è una collection e quindi non implementa i metodi del collection non implementa l'add non implementa remove eccetera eccetera implementa dei metodi invece che sono dei put e dei get put crea un nuovo collegamento quindi se io ti passo una chiave key k e un valore v lui sta creando una una corrispondenza tra un elemento di tipo k e un elemento di tipo v aggiungere un nuovo corrispondenza aggiungere un nuovo elemento ma questo elemento in realtà è una coppia chiave valore e invece il get va a ricercare il valore la chiave all'interno di tutta la mappa e restituisce il valore corrispondente a quella chiave ma avremo tempo di apprezzare molto queste mappe perché ci serviranno per memorizzare dei dati che non vogliamo che si ripetano vorremmo avere dei tempi di accesso molto rapidi conoscendo la chiave per ottenere il valore quindi sono estremamente utili e avremo modo di usarle pesantemente nel futuro esiste anche ma in questa parte introduttiva non entro nel dettaglio un modo per una mappa di restituire non solamente l'operazione di remapping tra chiave e valore ma anche le ente le sue righe ogni riga ogni ente di una mappa è una corrispondenza è una frecciolina e quindi abbiamo la possibilità di chiedere alla mappa senti dammi quali sono le chiavi che contieni dammi quali sono i valori che contieni oppure dammi un insieme che contiene tutte le coppie chiave e valori quindi mi converto una mappa in un insieme queste sono cose un pochino più avanzate che ci permettono di iterare sugli elementi delle mappe cioè sull'insieme delle chiavi sull'elenco dei valori oppure sugli entries quindi sulle righe stesse della mappa riassumendo noi abbiamo sulla parte di collections queste cinque interfacce principali set list e le due interfacce di coda e più l'interfaccia di mappa che mettiamo dentro perché ci sta simpatica e quelle che sono scritte nelle caselle sono le varie implementazioni le varie classi già disponibili nella libreria Java che implementano questo tipo di interfaccia perché serve più di una classe per implementare uno stesso tipo di interfaccia cioè se la lista ha certe caratteristiche io voglio una lista invece ho almeno due tipi di list la cosiddetta array list e la cosiddetta linked list sono due classi diverse che implementano entrambe la stessa interfaccia però la implementano in modo diverso e quindi la array list è più efficiente per alcune cose e la linked list è più efficiente per altre cose quindi al di là del concetto semantico mi serve una sequenza di elementi e quindi userò una lista il fatto che questa lista la crei come array list o come linked list come vedremo tra dieci minuti o anche meno sarà dipende dall'efficienza delle operazioni che voglio fare alcune operazioni sono più efficienti in una struttura dati e altre in altre questo è il motivo per cui la Java Collection Framework ci lascia più implementazioni possibili tra le quali poter scegliere e se volete tutte le informazioni in forma di tutorial le potete trovare sulla Collection a questo indirizzo ma proviamo a passare a un livello di dettaglio maggiore parlando delle liste quindi completiamo la nostra carrellata cominciando ad approfondire il primo il primo passaggio il primo tipo di Collection che sono appunto le liste sulle quali poi subito dopo nel prossimo video faremo un esercizio abbastanza estensivo che ci permetterà di fare un po' di ginnastica essenzialmente su queste su queste Collection su queste sequenze abbiamo visto dov'è lista la lista è una ovviamente sotto interfaccia di Collection ed è ed ha almeno due implementazioni famose la LinkedList e la ReList poi c'è l'implementazione Vector che però in questo corso tenderemo a non usare la lista se vogliamo è la versione moderna ad oggetti di quelli che sono gli array di quelli che erano i vettori in certo senso voi vi ricordate sicuramente quando avete fatto programmazione in C il casino che c'era quando dovevi lavorare su un vettore dovevi dimensionarlo della dimensione giusta devi fare attenzione a non uscire degli elementi non potevi aumentare o meno la dimensione del vettore una volta che l'avevi creato e cose di questo genere dovevi ricordarti tu quanto fosse grosso il vettore perché lui non lo sapeva e il C è fatto così in Java tutti questi problemi non ci sono e quindi ogni volta che è una struttura dati dinamica a oggetti io posso avere controllo sugli elementi si può ridimensionare da sola è capace di dimensionarsi quindi una array una lista è capace a crescere oppure ridursi accorciarsi e di fatto contiene serve per contenere array oppure sequenze di valori quindi non stupiamoci che è una delle collection più utilizzate proprio perché quella di base più semplice ma anche più versatile quali sono i metodi che la lista offre vabbè noi sappiamo già che essendo una lista una collection avrà un metodo add e avrà un metodo remove add aggiunge un elemento remove rimuove quell'elemento cancella quell'elemento dalla collection ma una lista è una struttura di dati ordinata quindi io posso sapere ogni elemento dove si trova il primo elemento si troverà nella posizione 0 il secondo elemento si troverà nella posizione 1 il terzo elemento si troverà nella posizione 2 l'ultimo elemento si troverà nella posizione size meno 1 perché essendo size il numero di elementi l'ultima posizione occupata sarà size meno 1 quindi le liste hanno in comune con gli array in C il fatto che l'indice parte da 0 quindi noi possiamo accedere a un array ce la visualizziamo sempre come un contenitore che contiene tante caselle ciascuna casella ha un indice che parte da 0 1 2 3 e così via e il contenuto di una cella è ovviamente il valore che ci mettiamo dentro il metodo get serve per leggere il valore che c'è dentro una cella quindi l'operazione di lettura il get il metodo add aggiunge un nuovo elemento in fondo quindi se l'array prima finiva qua se la lista prima finiva qua io aggiungo un elemento lo aggiungo col metodo add normalmente aggiunge un elemento in coda alla lista il metodo set e il metodo get vediamo che riceve un indice come parametro qual è l'elemento che vuoi? quello di indice 2 cioè il terzo il metodo add non richiede nessun indice perché lui sa dove era il finisce quindi lui lo mette automaticamente in fondo invece il metodo set permette di modificare il valore di un determinato elemento che si trova un certo indice quindi se io voglio modificare il valore di questo elemento userò set in cui al parametro all'indice 1 quindi il secondo elemento memorizzerò un elemento diverso da prima esistono poi delle forme delle varianti che sono queste due ad esempio il metodo add che normalmente aggiungeva in fondo io posso chiedere di aggiungerlo in fondo bensì in una certa posizione intermedia e quindi in questo caso lui aggiungerà in mezzo un elemento facendo spostare tutti gli altri verso destra quindi si fa spazio a questo nuovo elemento quindi è possibile aggiungere un elemento in coda oppure è possibile aggiungere addirittura come primo elemento purché facciamo un add all'indice 0 lui si metterà il nuovo elemento come indice 0 e tutti gli altri scaleranno avanti in una posizione immaginiamo già ovviamente che questa operazione di far scalare avanti tutta un'operazione è un'operazione che ha una certa complessità nel senso che impiega del tempo e aggiungere un elemento in prima posizione è molto più lento rispetto ad aggiungere un elemento in coda dove l'array è vuoto basta semplicemente infilarci dentro l'elemento nuovo così come il metodo remove ne esistono due versioni un remove in cui passo l'oggetto da cancellare e un remove in cui passo la posizione in cui si trova l'oggetto da cancellare in questo secondo caso è più veloce perché io so già qual è l'oggetto da cancellare nel primo caso invece dovrò prima trovare dove si trova l'oggetto qua dentro e una volta che l'ho trovato cancellarlo e in entrambi i casi poiché l'array si autogestisce cancellare un oggetto significa prendere tutti quelli alla sua destra e spostarlo alla sinistra di una posizione operazioni che noi eravamo abituati a fare in coda con i loop ma qui chiaramente sono native richiedono un'istruzione sola poi ci sono i due metodi di ricerca in cui io chiedo a una lista tu contieni un oggetto cioè questo oggetto è presente sì o no e se è presente dove dove si trova questo oggetto all'interno della della collection stessa questi sono i metodi di base che sono implementati ovviamente sono definiti nell'interfaccia lista e sono implementati dalle due classi che abbiamo a disposizione la linked list e l'array list si definiscono nello stesso modo quando io voglio creare una lista io creerò ad esempio se usiamo la classe array list una nuova array list e specificherò il tipo di oggetti che contiene questo new array list è una lista che al momento non contiene nessun elemento il costruttore è vuoto quindi una lista vuota vuota ma predisposta per contenere una sequenza di stringhe che vorremmo memorizzare ecco una buona abitudine che io vorrei che prendessimo dall'inizio è che ogni volta che definisco una in questo caso una array list la variabile che userò per fare riferimento a questa array list la dichiaro di tipo list cioè usando l'interfaccia quindi io dichiaro la variabile usando l'interfaccia e poi però ovviamente quando creo l'oggetto dovrò creare la classe specifica in tutto il programma tranne dove si trova l'istruzione new in tutto il programma tranne dove abbiamo la new noi vorremmo io vorrò mi piacerebbe ma non è che piace a me è più comodo è più conveniente per tutti che questa words sia conosciuta solamente come lista di stringhe che poi sia un array list o una linked list al resto del programma non interessa interessa solamente nel momento in cui viene creata quindi regola generale quando creo che se vogliamo un piccolo pattern di programmazione quando creo un oggetto lo creo di una classe specifica ma poi lo passo in giro al resto del programma usando la interfaccia che questo oggetto implementa questo mi permette di far sì che se io dovessi per motivi che oggi magari non so ancora prevedere ma domani mi accorgo che un array list non va bene mi serve una linked list beh se l'ho fatto così io devo modificare una riga del programma dove ho creato la lista perché in tutto il resto del programma non ci sarà mai scritto array list ci sarà sempre scritto list che è l'interfaccia che le ricomprende entrambe il mangiato dell'interfaccia è proprio questo che decidono quali sono le funzioni che le classi implementeranno e poi possono essere utilizzate indipendentemente da quale sia la classe specifica che viene utilizzata quindi la regola per noi sarà sempre dichiaro la variabile di tipo list che è un'interfaccia e la creo creo l'oggetto usando una classe specifica perché ovviamente così è obbligatorio fare cioè array list oppure linked list l'array list mappa essenzialmente il concetto che abbiamo visto prima cioè una serie di caselle successivo una all'altra questo era nel nostro esempio una lista di stringhe e quindi il contenuto della prima cella la cella di ordine 0 di indice 0 sarà una stringa quindi ad esempio la possiamo immaginare tra virgolette l'ho disegnata in questo modo per ribadire come sempre avviene in java questa è una regola generale dei linguaggi oggetti in particolare java che l'array la lista non contiene la stringa contiene un riferimento alla stringa la stringa sta altrove nella seconda posizione ci sarà un riferimento a un'altra stringa che starà altrove e così via quindi la lista è una struttura dati che contiene tanti riferimenti ciascun riferimento punta al dato vero e proprio quindi anche le operazioni in cui devo aggiungere eliminare degli elementi aggiungerò solamente sempre il riferimento a un oggetto che sta altrove che sta sempre fuori quindi ad esempio potrebbe bovissimo avere un certo oggetto lo stesso oggetto che compare in più posizioni nella lista ad esempio se è una posizione 0,1,2,3 o 5 e magari è la stessa stringa lo stesso oggetto che viene memorizzato una volta sola ma tra virgolette compare in più posizioni nell'array questo è normale la normalità ricordiamocelo però quando faremo un esercizio dovremo copiare una lista per fare una coppia per fare un duplicato allora chiediamoci stiamo copiando solo i riferimenti o stiamo copiando anche gli oggetti a cui questi fanno riferimento e questo sarà una delle problematiche a cui dovremo sempre fare attenzione quando lavoreremo con le collection che poi è comune la base se vogliamo del concetto di programmazione oggetti che separa il riferimento all'oggetto dall'oggetto stesso ovviamente l'array list come dicevo ha delle posizioni fisse per gli elementi quindi se io cancello il primo elemento decidessi di cancellare il primo elemento dovrò fare in modo che tutti gli altri elementi si spostino indietro di una posizione e questo rende scontente il nostro bambinello perché immaginiamo già che porterà via del tempo del tempo di elaborazione l'altro tipo di lista è la lista linkata la linked list che come vediamo dalla definizione è identica io l'ho sempre definita di tipo list ma quando creo l'oggetto lo creerò di tipo linked list quindi creerò un oggetto di tipo linked list che si comporta come una list che inizialmente contiene zero elementi e si predispone per contenere delle stringhe se vogliamo visualizzarci la struttura di una linked list ce la visualizziamo in questo modo il primo elemento il secondo il terzo il quarto sono oggetti separati questi sono oggetti nascosti interni all'implementazione della linked list questi noi non li vediamo sono diciamo così dettagli implementativi però nella realtà questa lista linkata è fatta così ci sono i vari riferimenti quindi la 1 che punterà alla stringa qui la 2 che punterà alla stringa qui e così via i vari elementi e ciascun elemento è collegato vedete qua questa freccia è un collegamento all'elemento successivo e all'elemento precedente quindi è facilissimo da un elemento passare a quello dopo passare a quello prima ma se io devo trovare devo andare di botto al diciassettesimo elemento non ho nessun altro modo che non partire dall'inizio e fare dal primo dal inizio della lista allo 0 all'1 al 2 al 3 fino al 17 quindi ogni volta che devo trovare un elemento in una posizione generica dovrò ripartire dall'inizio della lista e passare tutti gli elementi e contarli man mano che li incontro quindi sono operazioni che magari sono un pochino lente trovare il diciassettesimo elemento in un array list è istantaneo trovare il diciassettesimo elemento in una linked list richiede un po' di tempo però ad esempio la cancellazione è banale nel senso che se non mi serve più questo elemento lo voglio cancellare allora non entro nei dettagli ma basterà modificare le frecce che c'erano prima e far sì che questo elemento dopo non punti più all'elemento che voglio cancellare ma a quello prima ancora e l'elemento prima non punti più a quello che sto per cancellare ma a quello dopo ancora quindi sistema due freccioline sistema due puntatori e ho tolto l'elemento dalla lista e quindi questo che magari prima era il nono elemento diventerà l'ottavo perché in mezzo non ce n'è più uno questo non esiste più o meglio esiste ma non è più raggiungibile né da quello precedente né dall'elemento precedente né dall'elemento successivo quindi qua vediamo un esempio semplicissimo l'operazione di rimuovere un elemento è un'operazione istantanea molto veloce in una linked list è un'operazione più pesante in un array list viceversa l'operazione di trovare un elemento in posizioni 17 è un'operazione istantanea in una array list e un'operazione invece che richiede un po' di tempo in più in una linked list quindi possiamo chiederci le varie operazioni e queste sono le operazioni principali dell'interfaccia list come sono implementate da queste due classi e poi mi chiederò nel mio programma quali operazioni uso più frequentemente perché a questo punto mi servirà per poter scegliere quale tipo di implementazione utilizzare e quindi un array list il metodo add aggiunge un elemento in fondo quindi so già qual è la posizione questa posizione è vuota quindi sarà immediata ma così come anche immediato aggiungi un elemento in fondo alla lista perché come vediamo qua questa figura non si vede questo blocco di intestazione punta sia al primo elemento ma punta anche all'ultimo questo mancava in questa figura il fatto che questa casella sapeva già dove fosse il primo elemento dove fosse l'ultimo quindi poteva analizzare la lista da sinistra verso destra o da destra verso sinistra quindi in questo caso è immediato aggiungere un elemento la cancellazione di un oggetto vabbè su un array list abbiamo visto che è un po' pesante sulla linked list è meno pesante è meno rallentata meno lenta perché non scrivo che sia immediata ma è beh perché prima di tutto l'oggetto per cancellarlo devo prima trovarlo e quindi devo prima scandire la lista fino a quando non trovo l'oggetto che mi serve e poi a questo punto lo posso cancellare la cancellazione è immediata trovare l'elemento invece richiede un po' di tempo sull'array list in realtà il problema è doppio prima devo trovare l'elemento e quindi questo richiede comunque di scandirsi il vettore e poi una volta che l'ho trovato devo spostare tutti gli altri quindi faccio due volte scansione del vettore l'operazione di get è il classico esempio di un'operazione che è immediata su un'array list perché se conosco l'indice vado direttamente a pescare la quinta cella la sesta cella della mia tabella mentre invece in una lista linkata per trovare il quinto elemento dovrò passare a tutti i quattro precedenti la stessa cosa aggiungere un elemento o cancellare un elemento allora per motivi diversi ad esempio la cancellazione di un elemento conoscendo l'indice negli array list è un pochino lenta perché devo spostare tutti gli elementi successivi mentre invece sulla linked list spostare gli elementi non c'è non c'è bisogno di farlo ma devo trovare l'elemento perché visto che ho passato l'indice devo prima passare tutti gli index meno uno elementi quindi per motivi diversi possiamo dire che in un array list è più veloce cancellare con un remove gli elementi che sono al fondo mentre invece in una linked list è più veloce più efficiente cancellare gli elementi che sono all'inizio della lista quindi sono un po' duali una rispetto all'altra queste due strutture dati e ovviamente tutte le funzioni di ricerca invece non possono far altro che partire dall'inizio e andare a vedere tutti gli elementi l'uno dopo l'altro fino a quando non lo trovano oppure fino a quando non incontrano la fine della lista se noi dobbiamo fare tante operazioni di ricerca e ne faremo tante nei nostri programmi le liste non sono la struttura dati migliori e vedremo che gli insiemi e le mappe invece sono molto più efficienti da questo punto di vista mentre lo sono di meno da altri punti di vista quindi già cominciamo a cercare di capire perché ci servono tante tipologie di collection questo è un grafico di un espedimento che abbiamo trovato in giro di un signore che si è messo a fare un programmino in cui ha provato a fare tante 10.000 operazioni di ad 10.000 operazioni di get 10.000 operazioni di remove e le ha provate sia sulla release che sulla linked list e si vede che ovviamente ci sono delle operazioni molto rapide aggiunte in fondo e sempre molto veloce ovviamente questo è un tempo quindi più piccola la barra più efficiente il get sulla release è la cosa più rapida istantanea il get sulla linked list invece ha un tempo decisamente maggiore la linked list però ha la sua rivincita quando parliamo di remove che sull'array list invece è molto diciamo così penalizzato mentre invece sulla linked list si ha la stessa complessità del get essenzialmente allo stesso tempo del get ma molto di meno rispetto a quello di un array list quindi questi alcuni esempi che ci aiutano un pochino a cominciare a pensare a questo aspetto ecco se vogliamo formalizzare un pochino di più questi concetti senza entrare nella teoria della complessità che porterebbe via mezzo corso gli informatici che studiano l'efficienza degli algoritmi usano una notazione molto semplice che si chiama ODN che essenzialmente dice che al crescere di un problema quindi avendo un array list sempre più grande ad esempio con n elementi al crescere di n come cresce il tempo necessario per fare una certa operazione quindi ODN è una specie di upper bound del limite superiore rispetto al tempo che è richiesto per eseguire un algoritmo sulla struttura dati di dimensione n qui noi possiamo avere algoritmi di tempo lineare ODN ad esempio in cui se io ho un array di una lista diciamo di 1000 elementi ci mette un certo tempo avendo una lista di 2000 elementi ci metterà il doppio del tempo quindi era WN era doppio del tempo questo ovviamente asintoticamente per valori grandi di n per valori piccoli di n non ci interessa l'efficienza perché comunque sarà sempre istantaneo oppure possiamo avere algoritmi quadratici in cui raddoppio la dimensione del vettore della lista e mi quadruplica il tempo di esecuzione dipende potrei avere algoritmi invece più fortunati logaritmici in cui al crescere della dimensione della struttura dati il tempo di esecuzione non cresce proporzionalmente ma molto di meno logaritmicamente l'ogaritmo voi sapete cresce molto di meno di una funzione lineare o addirittura operazioni che avvengono in tempo costante cioè il tempo necessario per seguire una certa operazione non dipende dalla dimensione della struttura dati noi genericamente lo indicheremo come O di 1 prendendo 1 come costante di riferimento in tempo di ipotetica del certo tempo di esecuzione allora senza stare a fare tutti i conti alcuni di questi conti li faremo più avanti possiamo vedere che le operazioni che prima avevamo chiamato istantanee sono quelle operazioni che dal punto di vista complessitale possiamo etichettare come O di 1 quindi tempo costante il tempo che mi serve per aggiungere un elemento al fondo di un array è costante cioè non dipende da quanto è grosso quell'array list e non dipende da quanto è grossa quella linked list il remove richiede abbiamo visto sul caso dell'array list prima trova l'elemento e poi sposta tutti quelli dopo e trova l'elemento e sposta quelli dopo sono entrambe operazioni che devono toccare un certo numero di elementi solo 5 10 fino a metà array fino a tre quarti dell'array non lo so diciamo che così il numero di elementi che devo toccare è proporzionale alla dimensione dell'array sulla lista linkata va un pochino meglio perché è vero che prima devo trovare l'elemento ma poi per cancellarlo non ho bisogno di spostare null'altro dopo e così via queste formulette ci danno l'idea di quali sono e anche perché le operazioni che sono più efficienti su un'altra struttura dati e quali invece sono più efficienti su un'altra struttura dati e l'altra cosa che apprezziamo è che la maggior parte delle operazioni sulle liste ha una complessità massima che è lineare cioè ODN non può essere nessuna operazione richiede un tempo maggiore della lunghezza della lista poi in realtà ci sono operazioni invece che ad esempio quella di remove di retain all che lavorano su blocchi di elementi possono avere una complessità maggiore così come l'operazione di ordinamento qui stiamo parlando delle operazioni di base ovviamente quindi se vogliamo questo slide ci ricorda perché per quale operazioni è più adatta una realist quando devo fare tante get set usando l'indice quando devo aggiungere o rimuovere degli elementi purché siano al fondo nell'ultima posizione e mentre le liste linkate sono molto più comode quando devo eliminare un elemento o aggiungere un elemento usando degli iteratori quindi mentre sto iterando la lista quindi modificare la lista al volo mentre la sto costruendo oppure aggiungere o rimuovere elementi che siano nella prima posizione o nell'ultima posizione già nell'ultima posizione andava bene la realist ma nel caso in cui debba aggiungere o togliere dalla prima o dall'ultima posizione allora anche la lista linkata ha lo stesso tipo di efficienza a parità di tutto il resto se consideriamo anche non solamente il tempo di esecuzione ma la memoria impiegata ebbene le liste linkate usano un pochino più di memoria degli array list gli array list usano un pochino più di memoria degli array list perché ovviamente deve gestire tutte queste frecce avanti indietro questi riferimenti avanti indietro tra i vari tipi di elementi quindi ovviamente le liste sono una struttura dati molto semplice e quindi le differenze di efficienza le differenze di funzionalità sono anche minimali rispetto a quello che potrebbero essere le strutture dati che vedremo più avanti però così cominciamo a abituarci sia a ragionare in termini di interfacce di alto livello cioè qual è la tipologia di funzionalità che mi serve e allora vedo quale interfaccia a cui far riferimento e poi sulla base della funzionalità che mi serve e poi sceglierò la classe che implemento sulla base delle prestazioni che mi dà quella implementazione di una classe rispetto ad un'altra implementazione della stessa interfaccia che è una classe diversa in funzione del problema specifico questo purtroppo non esiste una risposta in generale cosa è meglio tra realist e linked list la risposta è ovviamente la risposta dell'ingegnere dipende dipende dai casi dipende dal problema che sto risolvendo devo essere in grado di capire e di muovermi correttamente in questo caso quindi se vogliamo come riassunto delle due diciamo così le lezioni principali che abbiamo imparato sulle liste ma che ci servono anche per tutte le collection anche sui dati che vedremo avanti sono uno usiamo le interfacce due usiamo i metodi di alto livello quindi unione intersezione differenza tre teniamo sempre conto che l'efficienza di una classe rispetto a un'altra dipende dalle operazioni che deve fare il programma che utilizzo e quindi dovrò non andare avanti per abitudine ho imparato a scrivere la realist scrivo sempre la realist ma ragionarci un pochino in funzione del programma che stiamo sviluppando sapendo che visto che applichiamo la regola 1 usiamo le interfacce poter sperimentare o poter cambiare il tipo di implementazione per non essere molto veloce perché bastereà cambiare una sola linea di codice e non andare a riscrivere il mezzo programma allora queste cose qua un po' di ripasso veloce e di puntualizzazione ce le ritroviamo bene nell'esercizio che inizieremo col prossimo video